Rimaniamo in tema di buona sanità per una importante donazione fatta da Unicredit al Salesi di Ancona. Si tratta di un sofisticato simulatore neonatale. Ci dice di più Caterina Cantori. È femmina ed è stata ribattezzata Salesina. In realtà è un sofisticato simulatore neonatale dal costo di 25.000 euro che permette a medici ed operatori sanitari di apprendere ed eseguire manovre rianimatorie indispensabili per affrontare le complicanze che possono insorgere nei neonati. Ed in effetti il simulatore, collocato in un ambiente identico alla sala parto, ripresenta tutte le caratteristiche del neonato, pianto compreso. Questo è un progetto soprattutto di formazione perché noi vogliamo contare molto sulla formazione degli operatori sanitari perché pensiamo che se ben formati possono aiutare a migliorare ancora di più la qualità di vita del bambino. Qui abbiamo un simulatore neonatale che non per niente è una bimba e quindi noi l'abbiamo anche chiamata, abbiamo dato un nome Salesina. Questo simulatore servirà proprio a tutti gli operatori che hanno a che fare con un bambino neonato. Il simulatore è dunque un importante sostegno alla formazione di medici ed operatori sanitari di tutta la regione che grazie ad un progetto dalla durata quinquennale potranno applicare tecniche rianimatorie in una situazione del tutto identica alla realtà. Pensate che nelle Marche nel 2001-2002 morivano, se ricordo bene, 75 neonati ogni anno. 75. Negli ultimi 2-3 anni il numero si è ridotto a 20-25. Qual è la difficoltà adesso? Che la patologia è diventata più rara e i nostri medici e i nostri specializzanti non si confrontano più con una sufficiente frequenza con delle patologie importanti. Qual è il rischio? Che di fronte a una patologia importante i nostri medici non sono allenati a curarla e ad affrontarla con l'adeguata tempestività. L'arrivo del simulatore al Salesi è anche la prova concreta di come la collaborazione a vari livelli permetta di superare gli ostacoli imposti dai tagli e di come gli attori presenti sul territorio, in questo caso Banca Unicredit e Fondazione Salesi possano mettere a frutto sinergie preziose per il benessere della comunità. Devo dire senza timore di smentita che la partnership col Salesi ormai sta diventando storica e ci fa particolarmente piacere perché è un segnale concreto di presenza di Unicredit sul territorio. Quando parlo di concretezza, la dimostrazione di questo simulatore neonatale che è molto importante per le famiglie marchigiane, non solo anconetane, è un fatto evidente che ci dà veramente soddisfazione di dire che cosa possiamo fare di concreto sul territorio.